Buongiorno a tutti, sono contenta di iniziare questa giornata ripartendo dai dati, vedrete in questi giorni ci avviciniamo alla giornata del 3 dicembre, la giornata che tutti voi conoscete persone con disabilità e sentiamo sempre un po' troppo parlare di opinioni, quindi quello che ci piaceva fare stamattina era ripartire dai dati hard e vi racconto perciò una storia, una nostra storia, io sono co-founder della fondazione Fide Stroke, ci occupiamo nello specifico di persone con disabilità di paraisi cerebrale, però negli anni ci siamo sentiti di portare avanti delle cause che riguardassero davvero tutte le persone con disabilità, quindi di non essere noi discriminatori ed escludenti in prima persona. Questa storia nasce nel 2021, vi ricorderete che c'è stata una grande campagna mediatica che ha avuto tanta notorietà, che è quella legata alle Paralimpiadi, oggi vedo qui in sala anche Daniele con noi, quindi abbiamo anche gli atleti. Questa campagna ci raccontava appunto quanto il 15% della popolazione mondiale fosse rappresentato dalle persone con disabilità e ci sembrava un gran dato il fatto che si fosse riusciti a recuperare e a contestualizzare il numero di persone con disabilità in relazione alla popolazione mondiale. Abbiamo detto ma in Italia invece cosa succede? E allora abbiamo cominciato, siamo andati a guardare i dati italiani, prima su fonte Istat, poi i dati europei su fonte Eurostat e ci siamo resi conto che queste percentuali non tornavano tanto. In Italia, tutti voi lo sapete, vengono cifrate circa 3 milioni, un poco più di 3 milioni di persone con disabilità che quindi corrispondono al 5% della popolazione. dicevamo ma qua non tornano tanto i numeri, come mai? Poi invece andando ad indagare meglio, ad investigare, ci siamo accorti che i dati pubblicati da Istat sul portale disabilità in cifre sono dati frutto di un'indagine campionaria, per cui non rispecchiano realmente il numero di persone certificate con disabilità e questo perché non venivano inclusi i dati che magari provenivano da altre banche dati. Per questo oggi, tutt'oggi, non sappiamo qual è il numero effettivo delle persone con disabilità, stimiamo che possono essere circa il doppio di quelle censite, quindi di questi 3 milioni potremmo essere sui 7 milioni e quindi avvicinarci a una percentuale rispetto alla popolazione italiana del 12%, quindi parliamo di numeri che si parlano un po' di più rispetto ai numeri mondiali. È da qui allora che è nato questo progetto che in realtà poteva non riguardarci, per cui ce lo siamo finanziato da solo, non era un progetto così sexy per le aziende per essere finanziato, si parlava di numeri, di tabelle, di dati, però nasceva dalla consapevolezza che anche soltanto volendo accedere al database principale, per arrivare a questa informazione ci avremmo messo 70 click e l'elaborazione di 20 tabelle e questi dati oltretutto non erano pienamente accessibili a beneficiari finali, quindi una persona cieca che voleva attingere a questi dati non ne aveva la possibilità. Allora ci siamo inventati questo portale che adesso magari vi faccio vedere su questo breve video, se la regia ce lo manda, che si chiama Disable Data, è nato, è stato lanciato proprio l'anno scorso in occasione di questa giornata e ha avuto l'ambizione di raccogliere un centinaio di portatori di interesse che si sono messi insieme e hanno definito quelle che potessero essere le priorità per questa comunità. Quindi andare a riprendere gli stessi dati che trovate su Istat, gli stessi dati che trovate su Eurostat, ma con una possibilità di essere fruiti in maniera migliore e davvero fruiti da tutti. Questo progetto ha avuto grande notorietà, vi dicevo, perché è stato finalmente utilizzato dai giornalisti, dai media per sfatare anche quella narrazione basata sulle opinioni con cui abbiamo aperto oggi questa giornata, ma per contestualizzare anche le informazioni ogni volta che parliamo di persone con disabilità. Quindi un progetto partito dal basso, partito secondo la logica dell'inclusive design e che ha suscitato anche dalle repliche dal punto di vista delle istituzioni. Se mandiamo il secondo video sentirete adesso una replica da parte di Inps raccolta da Morning Il Post. Infine abbiamo ricevuto una replica dell'Inps rispetto al nostro articolo che raccontava l'inesistenza di dati ufficiali su quante siano le persone con disabilità in Italia. Non vi racconto tutta la storia dall'inizio, la trovate nei primi minuti della puntata di venerdì. L'Inps però ha replicato dicendo in sostanza sia l'Inps sia la pubblica amministrazione preposta all'accertamento della disabilità dal punto di vista sanitario possiedono un archivio aggiornato dei soggetti ai quali è stato riconosciuto lo status di invalido con la relativa gravità. Si precisa che Inps detiene tutti i dati in forma digitalizzata dal 2010, ovvero da quando sono state attribuite le competenze al riguardo e si precisa anche, e questa è la parte in cui questa replica appunto si qualifica come replica più che come smentita, il nostro articolo non conteneva informazioni false, l'Inps garantirà la massima collaborazione per l'attivazione di banche dati nella misura in cui le altre amministrazioni che nel tempo hanno gestito l'invalidità civile a vario titolo facciano confluire in un soggetto unico gli archivi in proprio possesso. Ecco questa è la risposta di Inps, come vedete siamo in un'epoca in cui i dati ci sono, la tecnologia c'è, tutti i dati sono digitalizzati e allora qual è il freno, qual è il più grande blocco per riuscire a capire effettivamente quante sono le persone con disabilità in Italia. Allora noi oggi abbiamo coinvolto Istat, abbiamo qui con noi Alessandra Battisti, in realtà l'abbiamo in collegamento da Roma, però Alessandra, e lo chiediamo davvero a lei perché c'è stata una, c'è sicuramente una grande expertise all'interno di queste istituzioni nell'elaborazione dei dati e anche una grande voglia di collaborare, quindi chiederei, ecco, benvenuta Alessandra. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, molto bene. Dici tu Alessandra, qual è il più grande freno, il più grande blocco oggi per arrivare a liberare i dati del registro delle persone con disabilità? Allora, sicuramente l'Istat ha sempre cercato di migliorare negli ultimi anni le informazioni, essendo consapevole di alcuni limiti delle informazioni che aveva messo all'interno del sistema informativo e che però servivano intanto per iniziare a parlare di numeri, anche se forse non erano quelli più adeguati, ma intanto iniziare ad avere dei quantitativi e delle informazioni su cui iniziare a lavorare. Il registro è un progetto su cui Istat lavora ormai da anni e ha l'obiettivo primario di fornire delle stime che siano più disaggregate delle persone con disabilità e quindi più utili al paese e utilizza due fonti dati dell'Inps che sono attualmente in nostro possesso e che quindi ci vengono fornite dall'Inps annualmente, che sono il registro delle certificazioni di disabilità e di invalidità e quello delle prestazioni pensionistiche relate alla disabilità. Nella costruzione di questo registro e nel primo prodotto abbiamo avuto una serie di problemi con il garante della privacy, quindi che ovviamente con il fine di tutelare la privacy dei soggetti portatori di interesse di fatto poi ha in qualche modo posto una serie di paletti, una serie di ostacoli che stiamo cercando assolutamente anche con i nostri tecnici, metodologi e informatici di superare, però ovviamente questo ha rallentato il passo rispetto alla realizzazione di questo progetto e che speriamo di riuscire ad avere almeno come primo prodotto nel corso del 2024. L'altra cosa è ovviamente la re-ingegnerizzazione del sistema informativo che quindi ci vedrà nel corso del 2024 come inizio di questo processo e ovviamente in fase di progettazione cercheremo di prendere assolutamente in considerazione quelle che sono stati i risultati dell'indagine condotta da Fight and Stroke nel corso degli anni precedenti. ovviamente il supporto da parte dei portatori di interesse e quindi il sollecitare e sottolineare l'importanza di avere informazioni più disaggregate possibili e più puntuali possibili per noi è fondamentale per in qualche modo essere sostenuti anche dalle persone che in qualche modo il garante della privacy cerca di proteggere. Quindi se riusciamo a far convergere verso una richiesta da parte dei portatori di interesse, una nostra azione nel venire incontro a queste richieste, forse riusciremo ad ottenere nel più breve tempo possibile risultati migliori e più utili per il Paese. Grazie mille Alessandra perché davvero questa mi sembra una bella notizia da applaudire. la società civile che chiede qualcosa alle istituzioni per poter davvero fare una migliore informazione ma soprattutto per vigilare su come i fondi di cui poi parleremo anche oggi vengono allocati in maniera appropriata e quindi affinché i beneficiari siano effettivamente quelli che ne hanno bisogno secondo me c'è davvero sempre più bisogno di coprogettazione, quindi lavorare cittadini, società civile e istituzioni per sviluppare questo. e se riusciamo a fare questo è anche merito della tecnologia per cui anche grazie a Microsoft per averci coinvolto in questo contesto. Quindi direi grazie ancora Alessandra e speriamo di tornare qui in occasione del 3 dicembre del 2024 con il famoso registro delle persone con disabilità o almeno con alcuni prodotti di questo registro. Grazie e buona giornata! Grazie!